Weekend di super lavoro per le guardie ambientali nel territorio di Ardea. I volontari hanno passato al setaccio le spiagge del lungomare dei Troiani facendo rimuovere le tende ai soliti campeggiatori abusivi che durante la notte avevano anche abbandonato sulla sabbia dei rifiuti. Intanto le guardie zoofile e norsa si sono recate presso i parchi pubblici e le aree verti per verificare che i proprietari dei cani rispettassero le norme vigenti, ovvero se avessero con loro il guinzaglio, le bustine per la raccolta delle deiezioni, la museruola e se avessero microcippato il proprio animale domestico. Inoltre, dopo una specifica segnalazione, hanno effettuato alcune verifiche in merito ad un cane tenuto a catena e che invece è stato trovato libero nel terreno del proprietario. Infine, alla dispoli è stato recuperato un pesce gatto che qualcuno aveva anche lasciato all'interno di una fontana pubblica.